Non sono giorni di ferie per Luigi De Magistris, il primo cittadino nei giorni più caldi dell'anno si impegna di fatti in diverse visite istituzionali come quella alla centrale operativa della Polizia Municipale in fermento anche a Ferragosto. È l'occasione per parlare per la prima volta di una sua ricandidatura alla guida del capoluogo partenopeo. Abbiamo fatto un bilancio di Ferragosto, quando si vuole profondamente innovare e cambiare una città si deve anche immaginare all'ipotesi di una ricandidatura. Oggi mi farebbe piacere, vediamo fra due anni e mezzo, per adesso sono contento che stiamo svoltando grandi progetti, l'economia ripresa, si intravede la luce fuori dal tunnel. Ma non solo, di fatti il sindaco ha approfittato di queste giornate per sciogliere le riserve sullo spinoso caso Tommasielli. L'assessore allo sport del Comune, attualmente indagato per una serie di multe che avrebbe fatto togliere ad amici e parenti, aveva di fatti rimesso le deleghe nelle mani del primo cittadino che, dopo diverse settimane, decide di confermare la fiducia a una delle persone simbolo della sua rivoluzione arancione. Pur stigmatizzando il suo comportamento, si legge in una nota, non si può trascurare l'impegno e la passione che Pina Tommasielli ha messo in questi due anni di incarico. Dichiarazioni che hanno già scatenato un vespaio di polemiche, in primis quelle dei vertici campani di Italia dei Valori, che giudicano la scelta del sindaco difficile da spiegare, e nell'ottica del due pesi e due misure.